Show! Genta là. Merda. Lascialo. Abbassa l'arma. Preferirei di no. Ho fatto molte cose, ma non sparo a un collega. È vero, ne hai fatte molte. So tutto quanto, Burke. In tutti questi anni ho sempre sospettato qualcosa, ma mi davano del pazzo. Hai sempre reso tutto più difficile. Ma voglio darti una possibilità. Dovrai soltanto posare la pendrive a terra e andare via. Burke, spara a questo stronzo e finiamola. Sta zitto, Mix. Allora, che ne dici, Show? Premi il pulsante. Non fare lo stupido. Ormai sei al capolinea, Burke. Io non credo proprio. Ho un gran numero di agenti dalla mia e, a quanto ho visto, la tua mira non è delle migliori. Mentre io... Io non sbaglio. Lo so... No! Non molare, Mix! Non molare, ok? Cazzo... Che è successo? Sho ha sparato a Mix. Dammi la radio. Daro, blocca l'ascensore. Adesso. Subito. Andiamo. Ok, vediamo di bloccare questo. L'ascensore. Merda. Fermo, l'ascensore è bloccato. Sì, ricevuto. Ok, Daro. Fallo ripartire. Crocciato. Mix. Meglio dividerci. fio. No, non, 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 non. Grazie a tutti.